amici di belinca calcio un grande saluto così come un saluto va ovviamente a marco e a franco il film sul calcio di cui voglio parlarvi oggi proviene da una cinematografia insospettabile infatti dell'iraniano giafar panai 60 anni uno dei più grandi registi contemporanei sempre molto critico nei confronti del regime del suo paese tanto che pensate nel 2010 è stato arrestato insieme alla moglie e alla figlia accusato di propaganda contro il governo per difenderlo si è mosso l'intero mondo del cinema dei fratelli cona coppola da deniro a redford da scorsese a spilberg in quell'anno anche se era in carcere il festival di can lo nomina membro della giuria lasciando simbolicamente una sedia vuota nonostante questo viene condannato a sei anni e gli viene vietato per vent'anni di dirigere film scrivere sceneggiatura e lasciare il paese e dare interviste a giornalisti stranieri rilasciato su cozione dopo una campagna e una mobilitazione di amnesty international ha diretto poi in clandestinità e con l'aiuto di la complicità anche di colleghi registi quattro film uno dei quali addirittura nel 2016 taxi teran ha vinto l'orso dora berrino mentre l'ultimo tre volti presentato a can si è portato a casa il primo per la migliore sceneggiatura ma il palmarès di per mai è molto molto ampio un pardo d'oro a locarno un leone d'oro a venezia nel 2000 per il cerchio e sempre a berlino nel 2006 un orso d'argento proprio per il film di cui vi parlo oggi offside dove ancora una volta lancia i suoi strali contro la natura teocratica del regime del suo paese il richiamo calcistico è evidente fin dal titolo ma in realtà calcio qui praticamente non se ne vede perché la prospettiva scelta è quella di mostrarci un gruppo di ragazze con la passione per questo sport alle quali una regola non scritta ma comunque codificata vieta l'ingresso allo stadio col pretesto che gli uomini li bestemmiano e imprecano e questo non è bene per le orecchie femminili parai sceglie una partita importante un match della nazionale allo stadio azali teran contro il giappone decisiva per la qualificazione dell'irana ai mondiali di germania 2006 quelli vinti dall'italia girando nel giorno stesso della partita così da poter cogliere l'atmosfera autentica del match si parte su un autobus diretto allo stadio pieno di tifosi urlanti tra loro un ragazzino seduto in silenzio che in realtà è una ragazza travestita il suo trucco viene scoperto è fermata e rinchiuso in una specie di recinto insieme ad altre come lei che avevano cercato di entrare nascondendosi sotto abiti maschili il loro destino e anche se vogliamo la loro tortura sarà quella di ascoltare le grida e gli applausi proveniti dall'interno senza poter vedere ciò che succede in campo e le loro domande come quella per esempio sul motivo per cui le tifose giapponesi arrivate a teheran avessero potuto tranquillamente prendere posto allo stadio non ricevono risposte panai si serve insomma di una partita di calcio per mostrarci lo spaccato della realtà iraniana sottolineando la marginalità sociale di cui sono vittime le donne con il suo piccolo microcosmo seziona una società e l'assurdità delle sue regole ma lo fa senza drammi anzi quasi con il sorriso affidandosi ad una commedia un film che anche se parla di sport alla fine però risulta fortemente politico semplicemente con suo limitarsi a mostrarci il disagio di queste ragazze messe come dice il titolo fuori gioco da una società maschilista che le pone ai margini impedendo loro di dare libero sfogo alla propria passione e anche se della partita di calcio non si vede nulla quello che però emerge proprio la forza di questo sport uno spettacolo che trascende e abbatte le convenzioni religiose sociali perché no anche sessuali due cose per concludere quella partita giocata il 25 marzo del 2005 l'iran la vinse 2 a 1 staccando così il biglietto per partecipare per la terza volta nella sua storia alla fase finale di una mondiale di calcio la seconda il 10 ottobre del 2019 cioè poco più di un anno fa un gruppo di donne ha potuto assistere liberamente per la prima volta ad una partita di calcio anche in questo caso una partita di qualificazione della nazionale ai prossimi mondiali iran cambogia finita 14 a 0 3.500 donne in un settore dedicato fatta entrare quando lo stadio era ancora vuoto insomma per ora il permesso vale solo per le partite della nazionale ma si spera sia il primo passo verso un futuro nel quale tutte le donne e le ragazze che vorranno assistere ad una partita di calcio in iran saranno liberi di farlo senza problemi e senza divieti